Santo, dobbiamo dire che finalmente è stato riconosciuto il tuo impegno per i giardini e il museo di Pitagora. È stato firmato un nuovo contratto, un partenariato speciale con il mondo dell'associazionismo che significa che continuerai a dare un bel contributo a questa città. Sì, praticamente è stata sia un'attestazione di merito a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni come job, come rete associativa, ma soprattutto si è scelta una strada innovativa dal punto di vista giuridico, legale, amministrativo, di alto valore. Crotone in questo senso, e devo ringraziare gli amministratori, l'Aggiunto, il Consiglio Comunale, l'Ufficio Cultura nella persona del suo dirigente hanno dimostrato lungimiranza. Crotone per la prima volta si colloca nel piano nazionale come una delle prime che traduce infatti i concreti in una nuova forma di affidamento del bene culturale. Santo, ci sono delle novità qui all'interno del Museo di Pitagora? Sì, le novità sono che finalmente usciamo dalla precarietà perché l'anno del commissariamento, questi anni di definizione un po' del futuro, non ci hanno permesso di seguire una strada ben precisa. La strada è quella originaria, questo si caratterizzerà come Museo della Matematica di Pitagora, quindi questa sarà la casa di Pitagora a tutti gli effetti dal punto di vista museale. E quindi noi andremo da qui a poco a una rivisitazione degli spazi museali, ma una programmazione che tenga fede di questi obiettivi, Pitagora e la matematica. Francesco, tu sei il direttore di Giobelle, ma dobbiamo dire che anche tu, insieme a Santo, insieme anche agli altri collaboratori, avete lavorato alla grande qui al Museo di Pitagora. Sì, abbiamo cercato sempre di restituire questo bene, evidentemente questo risultato ci conferma che abbiamo fatto bene questo lavoro, il museo è diventato un polo di aggregazione importante per la città e soprattutto, come diceva il Presidente, è stato un riconoscimento del lavoro da parte dell'amministrazione che ha giustamente deciso di proseguire con gli strumenti adeguati affinché venga valorizzata sempre di più questa struttura. Tu dici, è stato un riconoscimento di quello che è stato fatto, un riconoscimento che chiaramente in questi dieci anni, dobbiamo dire, ha dato dei risultati molto positivi a Crotone. Ha dato dei risultati, possiamo dire, assolutamente notevoli, al di là delle attività e della qualità delle attività che vengono fatte al museo, variegate e soprattutto che sono effettivamente diventato un perno culturale con tutte le attività e le varie sfaccettature di queste attività che non sono solo l'intrattenimento ma sono anche e soprattutto socialità.